101 milioni di euro di disavanzo e il no al Super Green Pass. Questo è il risultato del Governo regionale Marsilio. 101 milioni di disavanzo soltanto nei primi nove mesi del 2021, nonostante le enormi risorse in più trasferite dallo Stato alla sanità regionale. Più 60 milioni di euro di trasferimenti tra il 2021 e il 2020 sul fondo ordinario, più i fondi straordinari dati trasferiti per il Covid. E nonostante questo e nonostante la riduzione dei costi per la sanità interrotta per i tempi di attesa, si è prodotto in soltanto nove mesi un disavanzo di 101 milioni di euro che tende a superare ampiamente i 120-130 milioni di euro. Noi perché chiediamo chiarezza? Chiediamo chiarezza perché tutto ciò è la risultante della mancanza di governance e atti di programmazione e il futuro potrà significare, se i conti continueranno ad essere questi, tagli per la farmaceutica, tagli per le liste d'attesa nel senso contrario, ovvero si allargeranno le liste d'attesa perché si investirà meno in tal senso. Tagli al personale e noi vogliamo evitare facendo chiarezza tutto questo. E poi il Presidente deve essere il Presidente dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Non può rappresentare solo Fratelli d'Italia e Lameloni lisciando il pelo ai cosiddetti Novax o prendendo unico Presidente tra tutte le regioni addirittura la posizione contro il no al Super Green Pass. È l'unico Presidente tra le 20 che lo ha fatto. Noi invece abbiamo bisogno che faccia il Presidente per gli abruzzesi che quindi metta in campo tutta l'organizzazione necessaria per essere rapidi sulla terza dose, rapidi dal punto di vista comunicativo per gli over 40 e dal primo dicembre per la vaccinazione a tutti gli over 18. Questo ci si attende dal Presidente della Regione Abruzzo che faccia l'interesse a tutela della salute degli abruzzesi.